Perché non sale con me e l'accompagno da lui? D'accordo, possiamo scambiarci dei convenevoli lungo il tragitto? Sì, certo, credo. Bene, comincia tu. Mio padre avrebbe voluto un moschier. Io ho cercato di diventare brava nell'esporto, ma odiavo dovermi sporcare. Poi immagino sei entrata nell'adolescenza. Mi ha chiamata capitano fino a quando ho dovuto usare il mio primo reggiseno. E allora ha smesso di chiedermi di fare due lanci. All'improvviso non ero più il suo capitano. È arrivata tua madre. Se vuoi avere un rapporto sessuale con quella ragazza, scopri che dopo barba usava suo padre. È bello vederti madre.